Non l'abbiamo ripresa, ma Clemente ha appena nascosto una delle sue proverbiali triple. Condezza un attimino stanco in affanno, ne tira subito un'altra e fuori, ma il rimbalzo offensivo è di mano di pietra che domina queste situazioni. La parla dentro, Oba recupera. Che cosa vuole? Ma Oba non la passa mai, è tradizione. Alla fine c'è un fischio, che succede? Classica situazione da campino delle cascine, scoramento nelle facce delle persone che non hanno capito, Oba ha chiamato un fado, riceve Checco, il suo jumper è ovviamente dentro. L'Italia Unghie! E questo è Allen Iverson del Campino, che fa il ristoratore di Akane. Il taglio di Checco, Fulvio lo ignora. C'è Roberto, il dinamico, non da land off a Checco. Arriva Fulvio, che cosa chiede? Fulvio gioca uno contro uno, l'ontromano, i giochi di finte. Ibero Checco contro Nesh, va dentro, facile, fate la schiena, Oba alla scuola. Ok, questo è il basketball. Bravo Sciccio!